Cicu, cicu, qui falco a tutti, qui falco a tutti, no dici allora se fermo l'autogrill a Parma vedete che comanda un caffè, una brioche, una marmellata che ho la testa del telepass e mi fa e no guarda mai chef se non prende anche la spremuta non le facciamo lo sconto, la spremuta sarà biettè, a me ti mette per piacere il caffè e la brioche con la marmellata e oggi ho capito la mia ma la comanda che conosce, fu al banco e a me in cuo che insisti un po' a sbirlare la ria lì, come si dicono la che ha comandata anche sempre che si è bella al banco, la ria da ria metta che spetta il mio caffè e la fa praticamente alla tipa mi fa per piacere un caffè d'orzo con tanta schiuma e mi dà un caffè, figa allora mi ha idea, mi fa capire, ma sono tu rimasti indietro noi con questi abbinamenti strani o figa o le mucche le tre andrò a andare a cazzo con noi, perché che figa, non so che pensi per cazzo, cioè a me che adesso ti ha detto allora mi fa un caffè, una brioche con la marmellata, stia ben attento a non sbagliarmela e mi frulli anche una barba a bietola, va a cazzo.